ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora come avete potuto dire dal titolo io non avrei potuto diciamo non fare un video diciamo su questa nuova influenza che ha invaso prima la cina mollitalia e poi anche un po ovunque diciamo allora io sono convinta che questa cosa si risolverà però secondo me ci dobbiamo impegnare tutti quanti seguire le norme igieniche tipo lavarsi spesso le mani non toccarsi gli occhi il naso la bocca e cos'è così comunque c'è tipo un protocollo tutto scritto che hanno fatti i medici praticamente a parte quello però vi chiedo per favore io lo sto facendo io spero che lo fate un po tutti rimanete a casa per 20 giorni lo so che è pesante perché uno dice ma come io lavoro io quelli o quell'altro però almeno che se non è necessario proprio necessario io vi consiglio di rimanere a casa perché questa influenza cioè ad esempio qui in abruzzo ne sono arrivati a 24 non vi voglio allarmare questi 24 sono in realtà vabbè a parte le persone che già si sapevano che stavano male però pare che siano persone o i medici che sono stati a contatto appunto con malati oppure chi qualche familiare di chi ha contratto questa brutta influenza io quello che posso dirvi di stare comunque tranquilli perché non è un'influenza mortale per lo meno non quello che si crede cioè mi spiego meglio è vero ci sono parecchie persone che sono morte se andate a vedere tantissime persone sono morte non so se due trecento quattrocento io non seguo molto questa cosa però se andate a vedere il bilancio delle persone che sono guarite sono molto di più quelle che sono guarite allora perché rimanere a casa rimanere a casa serve più che altro per far tornare tutta l'italia alla normalità semplicemente per quello c'è chiaro per per esempio io posso anche per esempio che ne so oggi bella giornata esco vado in giro mettiamo sto a contatto con le persone contraggo l'influenza e poi ci sta mettiamo una nuova malata per esempio poi per esempio casomai io non me ne posso accorgere subito perché pare che questa influenza all'inizio sembra una normale influenza di stagione cioè in fondo da mal di gola febbre che non è detto che tutte le persone che c'è di mal di gola e febbre tosse per esempio cose così abbiano questa brutta influenza non è detto una cosa del genere fatto sta che fatto sta che non sempre uno se ne accorge diciamo così o perlomeno quando te ne accorgi è ormai stato avanzato perché è successo certe persone che ho letto l'articolo che se ne sono accorte non so quanto tempo dopo questo è un po come la mononucleosi come sapete io ho contratto la mononucleosi tipo circa due anni fa però non sapevo di averla perché da sintomi come una normalissima influenza fatto sta che se veramente noi italiani ci impegniamo a stare a casa cioè è chiaro che chi lavora come fa però io ad esempio ho visto ho visto veramente mi è venuto un nervoso scusate se lo dico però mi è venuto un nervoso nel leggere scuole chiuse in tutta italia però poi si fanno i concerti ed è pieno di gente le discoteche sono pieno di ragazzi c'è allora che senso ha scusatemi ma che senso ha c'è chiudere le scuole arrivata a questo punto è meglio tenerle aperte le scuole cioè perché se uno dice chiudo la scuola però poi le discoteche stanno aperte i locali stanno aperti tutto sta aperto cioè che senso ha giustamente quindi veramente ci dobbiamo impegnare perché qua la situazione è critica molto critica la gente ha paura di uscire di casa però tutti dicono c'ho paura c'ho paura però poi basta che fanno il concerto del loro gruppo preferito si andiamo al concerto c'ho paura c'ho paura però poi vanno in questi locali super affollati quest'influenza non si ferma mai se veramente le persone continuano a fare come hanno fatto come hanno fatto finora poi che senso ha c'è per quelli della lombardia e dire è sa ci abbiamo l'influenza qua è tutto infestato quindi andiamo andiamo sotto sotto verso l'abruzzo molise puglia campagna si infettiamo pure giù perché giustamente giù non era infettato io posso capire che le persone sono nel panico e tutto posso capire tutto però giustamente io mi dico l'altra notte sono scappate delle persone della lombardia per venire per scendere un pochettino giù diciamo così però giustamente io mi domando e mi dico dopo che è successo tutto questo casino hanno deciso di blindare la lombardia cioè nessuno può entrare nessuno può uscire però cavolo ma perché non l'hanno fatto prima anzi secondo me secondo me quelle persone italiane che hanno riportato l'influenza punto in lombardia secondo me dove non essere bloccate proprio in cina a me mi dispiace per quello che sta succedendo perché sono una ragazza veramente innamorata che vorrebbe rivedere proprio fidanzato ma qua hanno bloccato tutto io non posso andare da lui lui non può venire da me cioè vi sembra una cosa giusta una cosa del genere come me ci sono anche altre persone addirittura c'è una signora anziana che può vedere il marito attraverso un come posso dire una finestra di vetro perché perché pare che il marito abbia contratto questa cosa ma è giusto c'è una cosa del genere che le persone che si vogliono bene devono stare separati cioè vi sembra una cosa normale io non dico che devo viaggiare per conto mio che ne so me ne voglio andare mettiamo in sicilia a fare una bella vacanza per conto mio però perlomeno a me sinceramente mi viene un nervoso perché ci tenevo così tanto a passa il compleanno col mio fidanzato e ma non posso però come me ci stanno anche altre persone anzi secondo me pieno l'italia magari persone che non sanno come fare per rivedere i propri genitori genitori che non sanno come fare a rivedere il proprio figlio ragazzi innamorati che stanno separati cioè ma non è giusto non è giusto veramente io veramente vorrei che questa cosa si risolvesse però però se giustamente una persona continua perché non sa resiste 20 giorni a casa c'è uno deve far far finta che sta male c'è uno io non ci credo che se una persona se queste persone che vogliono tanto fare diciamo le persone egoiste tra virgolette e uno dice vabbè prendo me ne vado cioè io non penso che queste persone avrebbero fatto lo stesso se con la febbre a 40 per intenderci e io non mi sto riferendo a quelle persone che devono uscire forza di cose perché lavorano e il loro datore di lavoro non li concede le ferie persone che magari hanno sono a corte di provviste quindi devono uscire per fare la spesa ma io mi sto riferendo a tutte quelle persone persone proprio che c'è così escono per andare al concerto escono dice mo dalla lombardia me ne vado bello in sicilia perché mi voglio fare una vacanza al mare c'è proprio persone così ma non è bello non è bello perché qua è la fine del mondo cioè è la fine del mondo perché si hanno bloccato letteralmente di tutto di tutto non si è mai vista una cosa del genere e mo quanto fino a quando ce lo dobbiamo porta questa cosa fino all'anno prossimo e io non voglio che fino all'anno prossimo dovremmo sta così secondo me è meglio soffrire mo stare a casa è chiaro che poi se uno deve uscire per forza di cose perché lavora o altro per me può uscire cioè non è quello però parecchie persone escono per divertimento escono per andare in mezzo alla folla ma così però secondo me non è bello e soprattutto gli animali perché parecchie persone pensano che gli animali portano questa influenza invece gli animali no non la portano affatto tutto può succedere che gli animali la contraggono tutto può succedere noi non lo sappiamo però state tranquilli che gli animali non sono la causa di questa influenza brutta quindi state tranquilli almeno su quello bene ragazzi scusate per il mio sfogo però ci voleva proprio e ci rivediamo al prossimo video